La camera calda a pareti coiventate viene utilizzata per liquefare il miele cristallizzato utilizzando il calore. È possibile introdurre fino a 12 latte da 25 kg oppure un fusto da 300 kg di miele. La camera è chiusa nella parte frontale con una chiusura a scatto metallica. Fra i principali vantaggi della camera la possibilità di spostarla direttamente sopra il pallet dove sono posizionate le latte o il fusto. Per ottenere questo la camera non ha la parete verso il pavimento ed è dotata di ruote per essere comodamente spostata. L'isolamento del calore è massimo grazie a spesse pareti coiventate ed ha uno speciale sistema di isolamento verso il pavimento. In questo modo anche senza la parete inferiore si ottiene un isolamento molto molto elevato. Nel video viene mostrata la versione di camera calda da 300 kg ma viene prodotta anche una versione più grande che può contenere fino a 600 kg di miele. Il termostato digitale permette di impostare la temperatura a cui portare il miele e rilevare la temperatura attuale all'interno della camera calda. In questo modo si ottiene un controllo estremamente preciso della temperatura all'interno proteggendo i valori nutrizionali del miele. Scopri tutti i dettagli e le specifiche tecniche delle camere calde Lega sul sito legaitaly.com